ma vi altri ho conosci ciccio gamer 89 mi si e l'ho anche seguito fa qualche settimana e pare un bravotoso ma da come che parla e pare un piano socca c'è tanta gente che socca su youtube tanti se boccia sovani quindi se sbaglia la grammatica o i tempi ti perdoni ciccio che ha 28 anni non si più boccia però colparla e pare un puteo ignorante e non sembra che ho faccia apposta come che fa qui la che fuma bestemma e mostra tette sui suoi video essere ignoranti non vuol dire essere brutte persone però ciccio visto che tre milioni di putei che te segue date una scattoria ciao 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 ciao